I carabinieri del nucleo radiomobile a Catania hanno trovato in uno scantinato comune di un condominio di via Salvatore e Salomone Marino un borsone contenente un ricco arsenale con armi e munizioni da guerra. L'operazione della scorsa notte si è sviluppata nel quartiere Monte Po, storicamente controllato dal clan Cappello. I carabinieri hanno trovato un fucile d'assalto Kalashnikov calibro 7,62 completo di serbatoio, una bomba a mano da guerra M75 fabbricata nell'ex Jugoslavia utilizzata nella guerra dei Balcani, 34 cartucce per fucile calibro 12, 6 cartucce calibro 7,65 per pistola semi-automatica e 46 cartucce calibro 9 per pistola semi-automatica. Sul posto sono intervenuti gli artificieri antisabotaggio del comando provinciale per porre in sicurezza l'ordigno bellico che, se incautamente maneggiato, avrebbe potuto provocare danni gravissimi.